Ciao amici, eccoci Alessandro, inserisce la moneta, vediamo lo sfondo, siamo in Puglia vicino dal Lipoli, il nome dello stabilimento, non me lo ricordo, la moglie dice si chiama Punto Fisso, allora guardi, quadratura così eh, allora, ok, ok, allora vediamo, finora Alessandro ha perso o pareggiato? No, sempre pareggiata e certe volte ha perso Questa, questa che fa questa partita vince tutto, 0-0, partita non a palla, ok la partita non a palla eh, blancio Olè, 1-0, è inquadrato? Sì, vai, guarda, zoom, zoom, dammela 3, dammela 3, 1-0 per me Niente pietà eh, non faccio prigionieri eh Eh sì, devi impegnare, perché fanno fortemente svantaggiato Eeeeeey! Inquadra, inquadra, fa il giro, fa il giro, fa il giro, fa il giro, prendi, ben vissuti sotto guarda, zoom, sotto, fai vedere la mano che entra entra nella pallina La mano Ok, siamo a 3-0, guardate l'acqua, vicino di qua, vicino di qua Da dietro per su davanti eh, inquadra la faccia di Ale che è concentrato Ok Prova, prova Prova, direttante, prova Attento, attento là, infatti Chi fa questo vince tutto Ma forse non sarà La vincere tutto Facciamo così No, non sarà tutto Vai Ale, vai Oh, palo Prendo la mira e go E no E io dico, vè Ale Mi dispiace Qua sarà zero Inquadra sotto L'apprendimento della pallina Sì, il prendimento Oh, prendimento della pallina Guarda, guarda Lancia e pulibra sul centro No, 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 no Prova, prova Va a tenere un po' la palla in gioco Ma È molto dura questa partita Sta perdendo 4 a 0 No 4 a 0 Potrebbe tirare Potrebbe tirare Vai, vai, vai La difesa c'è La difesa c'è Il centro campo c'è Il portiere c'è Il centro campo Resiste Ok, Ale Può tirare Ma è ancora una difesa Che controlla la palla E la ridà il centro campo Ah, bravo 1-1 Va bene 4-1 Ricordiamo 4-1 Questa è la buona Guardate Guardate Le peggio sparite Guardate L'angolo è libero per il gol Ma prova, prova Alessandro Vai, vai, Ale Prova Alessandro Ha gestito la partita Vai, Ale Ancora, ancora Ancora Vai, Ale Ma la difesa c'è La difesa degli azzurri No, no Abbiamo i rossi che ci provano Ma non sono convinti E quant'era riesce Con quale stigliere Forte Ancora Bravo Anquadra, inquadra, inquadra 2, da vicino 2, 2 2, 2 Inquadra il prendimento della palla 2 Apprendimento, apprendimento È l'ultima Ah, no, ancora Vai, vai, vai Alla siamo 2-4 E che bocca sia Prendi, prendi lo sbattimento Da vicino, da vicino Sbattimento Più vicino, più vicino Sbattimento, palla Eccolo Vai Oh Bravo È messo un 3 Di 4, è un'espressione di giubilo Di giubilo Di giubilo Di giubilo Avvicino Quando lo giubilo Giubilo, giubilo, giubilo Dai, Ale 4 per il padre 3 4 per il padre E va bene Perché fa questa Vince tutto Niente La difesa è il PG Ancora 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 Aiuto Non riesce a penetrare Aiuto Bene In grande difficoltà i rossi Che potrebbero perdere la possibilità di vincere Se solo una palla in trasse Miracolosa Vai Che ora a tinsura No No E' gol E' gol E' gol Bravoroso Non l'abbiamo neanche vista Bravoroso E' gol E' gol E' gol Bravoroso E' gol E' gol E' gol me lo sento me lo sento segno col portiere si col portiere che tira miracolosamente bravo siamo quasi pari eh ma tu stai a tre no io sto a cinque lui a quattro se questa entra siamo pari ci ho provato vogliamo fare chi fa questa vince tutto il quadro il quadro se mettete like facciamo un'altra partita se mettete dislike allora finisce qua allora vediamo vediamo da voi perché adesso dai alì diventata a meno che non segno io se segno io no no segno io finisce qua no no segno io segno io segno io segno io finisce qua ci vuole provare papà sentiamo che adesso si inventa dai che cosa ti vuoi inventare hai rullato tu hai rullato però tu hai rullato come fa papà a non rullare come fa a non rullare allora vediamo vediamo adesso tenta di inventarsi qualcosa hai perso hai riperso hai straperso non c'è non c'hai scusanti proviamo a sistemare la giornata ragazzi vedete che cielo ragazzi che colori che colori oh mamma mia poi carini questo ombrellone azzurro il cielo questo colore laggiù piove laggiù piove qui c'è tanto stabilimento tutto color legno che non ci siamo stati carino due stabilimenti dopo ci ha lito delle bandiere carino pure quello ci siamo stati ieri due stabilimenti più in là ci ha lito delle conchiglie vede carini che ci stanno queste ombre adesso l'ombra c'è uguale perché è fin dalla giornata però fa comodo l'ombra dei pilli allora ragazzi Michioni attirato adesso vedrete la partita con un camera d'eccezione faccia l'autocamera man no 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 dai appena appena sei in vantaggio di un gol passo guarda che io gioco benissimo con la mano eh tieni tieni valla tu camera man eh come fai con la mano? tieni tieni tu tieni tu ok 1 a 0 per... ti metti 8 e ti auguro metti 1 1 a 0 chi fa questa vince tutto eh la tieni vedi qua vieni qua ma quello sta 1 bambino? eh metti la fila telecamera la davanti a me bella così così sembra che la tengo io perfetta vai rimani in quel modo eh 1 pari dai però forse che è fortunata dai che fortuna dai resisti Daniele ci metto poco a battelo eh vabbè che verrà un po' di tremore dai ai ai eccolo ah 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 oh oh e poi sono bene all'indietro oh 2 a 0 2 a 0 2 a 0 per Alessandrino bravo ripetissi Daniele che le faccio 3 di fila adesso si 3 di fila di fila di fila ti piacciono le favole eh che viva chi fa questo vince tutto ti piacciono le favole chi fa questo vince tutto ti piacciono le favole chi fa questo vince tutto ah tu mangi spaghetti eh, guarda 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 cosa fare io, fare tiro gol, tiro gol, due pari vi ricordo che ci troviamo al quinto gradi del primo tempo con il più scadone che due pari, la partita sembra stallare ma c'è un tiro dalla difesa che si va a tirare, mi piace metti tre, inquadra in quadra, tre, 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 i rossi se la stanno vedendo molto molto male, molto male, molto male, eccolo, ancora un palo, è grande l'azione del portiere che tira dai, dai, coraggio, coraggio ed è il padre in vantaggio no, 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 dai bravo, bravo, sì, miracolosa un palla che rimbalza contro il duro ma non entra la difesa attenzione, i rossi insistono, vogliono la vittoria ma è il gol ahhh, ahhhh, ed èTO ? Quattro due cinque due quattro due Grigio, c'è roba dieses torna Uhhhh... i rossi, i rossi cercano a tiro i rossi, i rossi fa vi faccia no, vabbè, questo è fortuna di regolazione degli azzurri che sono miracolati ma i rossi con il sombrero fatto male i rossi stanno vincendo dalla pratica dei gol e anche dalla pratica del campo però i rossi possono ancora recuperare il portiere non rullerà mai un mezzo rullo fai il portiere può rullare e rulla col portiere mi si è bloccata la mano dai 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 e gol oh, disastro 8-2 vedi la faccia del dia di qui ma che 8? ehm, hai perso guardiamo qui sotto ragazzi non c'è più niente 8-2, questa è la realtà vabbè saluta, ciao ragazzi a posto i video eh, non ci vuole sta 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 no basta basta le saluta hai perso ciao ragazzi ciao ragazzi al prossimo video dai che sei rimasto male dai ciao ragazzi alla prossima sconfitta ciao mi dici